scusate è qui la festa scusate è qui la festa scusate scusate da buonanotte ma non c'è mai ma non c'è mai ma non c'è mai buona sigla ciao e questo è per te questo è l'hard disk ma proprio che sta accettando mi piace ehi ma di me ehi ma di me ehi ma di me mi piace ma ci hai fatto ehi ma di me buona ehi ma di me 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 ti aspetto nella stanza ehi ma di me ehi ma di me ehi ma di me sai Enzo la musica di oggi non rispecchia più i nostri stati d'animo le nostre introspezioni ormai la musica commerciale di oggi per�� la musica l'argomot l'argomot ormai io l'argomot il il l'argomot questo è l'argomot anche C'è un'altra parte, è un'altra parte! Oh, non so cosa fare, vieni! Non so cosa fare, vieni! FBI! Oh, non ho fatto l'induzione! Facciamo un'indagine per tutti voi e vediamo... Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Enzo Brazzo, giusto? Sì? Che cosa avete fatto in quest'ora? Veramente, ho giocato tutta la sera con il pallone! Tutta la sera con il pallone? E una festa con tante ragazze? Obbligative! E a te! Gennaro Sposito! Che cosa state facendo in quell'ora? Beh, io ero compagnia di una bella ragazza, sinceramente! Bella ragazza? Bellissimo! Ma facevate qualcosa nella festa voi? Eh, io c'è buono! Lì si saluterà un po'! Domenico Bassomonte! Chi siete venuti a fare a questa festa? Mh... Io lì sinceramente non sono voluto a mangiare! Per mangiare una festa? Io non lo conoscevamo più festeggiati! Enzo, 7 da mezzo! Enzo, 7 da mezzo! Mi piacete! Mi stanno facendo una lampada! Piedi! Dobbiamo indagare qui! Ma che vogliamo indagare? Che non volevo fare questa festa in merda! Comunque che volete? Io qui sono stato in ospite mio prima cosa! Comunque che cosa stavate facendo in quell'ora? Io, onestamente, mi volevo fare una bella festa! E ci ho invitato molti amici miei! Che stavate facendo? Ma che cosa stavate facendo? Che cosa stavate facendo? Non mi dite queste cose! Voi che siete voi! Vabbè, andate, andate! Grazie! Ehi! 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 Ma mi hai fatto! Mattia! Oh, frate! Ehi! 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 No, mi sono piaciuto! Stavate facendo una lampada! Enzo! No, mi sono piaciuto! Ma questa cosa mi sto facendo una lampada! Qua stiamo sotto giudizio! Tu mi senti da scuola delle manici rubate! Ehi, mi senti da scuola delle manici rubate! Ma che cosa stavate facendo? Come cosa stavate facendo? Comunque che cosa stavate facendo in quell'ora? Io, onestamente, volevo fare una bella festa e ci ho invitato molti amici qui. Che stavate facendo? E credo, se vanno le feste cosa fanno? Piccati, chiamo, non mi dite queste cose, voi che siete qui. Vabbè, andate, andate. Grazie. Puglino, quanti anni ha avuto questo nonno? Non ha tolto. Puglino, non ha tolto. Guardate qui, ho assicino alo. Eh, mi sono ammazzato a regarmi. Beh, non ho ciò che stavo. Guardate qui! Mi taglame il tuo passaggio. Guardate qui! Guardate loro qua. Ma quant'anni ha avuto questo nonno? Quanto altro non ha tolto. Guardate qui! Ma che stavo assiccino? Guardate qui! Sì, 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 sì.